Il 2023 è stato un anno scoppiettante dal punto di vista videoludico. Negli ultimi 12 mesi sono infatti approdati sul mercato titoli di grandissimo calibro, ma anche opere minori che non hanno forse ottenuto il risalto mediatico che meritavano. Giochi questi che probabilmente vi sarete persi e che quindi vale la pena recuperare. E allora perché non stilare un bel elenco delle perle nascoste che ci ha regalato l'anno che sta per concludersi? Seguiteci, e poi non dite che non vi vogliamo bene, eh? Ok, e partiamo con un titolo che arriva addirittura dall'Indonesia, ovvero A Space for the Unbound. In questa avventura, punta e clicca, scopriremo la storia di Atma e di varie figure che ruotano attorno a questo ragazzino delle scuole superiori che si barcamena tra ansia, bullismo e depressione. È una storia che parla quindi di crescita, di problemi del sistema scolastico e delle aspettative dei genitori. Una vicenda impreziosita anche da un tocco soprannaturale che comunque non prevarica la concretezza di ogni sequenza narrativa. Con la sua ambientazione affascinante, una direzione artistica fuori scala, A Space for the Unbound ha insomma assolutamente da giocare. Garantito. Qual è il prezzo giusto per un videogioco? Beh, in questo caso non serve nemmeno chiederlo, perché Moonring è completamente gratuito. Non parliamo però di un free-to-play con microtransazioni e pass battaglia, bensì di un gioco di ruolo classico totalmente disegnato a mano. Completamente in 2D e con visuale dall'alto, Moonring è quindi un viaggio complesso con una trama intricata, tantissime linee di testo e un'interazione d'avventura testuale in cui è necessario introdurre parole chiave. Siamo al cospetto di un prodotto che unisce quindi idee retro e una sorprendente modernità, e che aiuta anche chi è più giovane a proseguire nell'avventura, senza spingerlo a mollare alla prima difficoltà. Nei mondi post-apocalittici, i sopravvissuti sono spesso chiamati a perdere la propria umanità, e la violenza è l'unica moneta accettata. Se per una volta però desiderate un cambio di registro, beh, allora Soul Sea Chronicles fa davvero al caso vostro. L'alluvione ha trasformato il mondo in un insieme di isolette in un grande mare salato, e i suoi abitanti si sono fusi con alghe, uccelli, pesci e funghi. E il sentimento fondante di queste nuove civiltà è alquanto bizzarro. L'avidità porta al disastro, e accumulare significa quindi perire. Uno dei sistemi di gioco si basa proprio su questo. Non bisogna accumulare troppi punti. Nella storia della nave De Kelpie in cerca della Capitana Maya non ci sono scelte sbagliate, e avanzare significa solo rendere la nostra storia più personale. Grazie alla sua scrittura vibrante e un ampio mondo da scoprire, Soul Sea Chronicles è quindi un'esperienza caldamente consigliata per chi crede che post-apocalittico non significhi solo morte e distruzione. Mediterranea Inferno ci porta in Puglia per una vacanza post-pandemia di Covid. In questa pura visual novel seguiamo il ferragosto di Claudio, Andrea e Mida, un trio quasi leggendario per i festaioli milanesi. Quello che però doveva essere un momento per riunirsi diventa presto una fusione di conflitti, recriminazioni e sentimenti drammatici, in cui a farla da padrone è l'aspetto visivo. In un mix che chiama in causa Giorgio De Chirico, Alejandro Hodorowsky e la cultura pop, Mediterranea Inferno è senza dubbio uno dei giochi più particolari della nostra selezione. In termini puramente numerici, il mercato videoludico VR non riesce a stare al passo con i giochi classici, ma non per questo mancano i capolavori. E uno di questi è proprio The Last Clockwinder, un'avventura puzzle in prima persona arrivata quest'anno su PlayStation VR 2 che racconta la storia di Jules, una scienziata che deve impedire una catastrofe esplorando la torre dell'orologio, ovvero un gigantesco albero alieno in cui sono radunati i semi delle piante sparse nell'universo. La storia ci chiede quindi di esplorare in modo metodico l'albero, recuperando chiavi, azionando congegni e sfruttando dei guanti che permettono di clonare i nostri movimenti fino a comprendere come concatenare le nostre azioni. Ebbene, dopo aver visitato l'Indonesia e l'Italia, ora è il momento di scoprire l'India, dal punto di vista di una famiglia immigrata in Canada. Vemba è sia il nome del gioco sia quello della protagonista, che ci racconta la sua vita a suon di ricette tratte da un quaderno tramandatole dalla madre, ma rovinatosi durante il viaggio. La donna dovrà quindi riscoprire queste ricette, riempire gli spazi vuoti e trasmettere sentimenti profondi con il proprio cibo, che guarisce il corpo ma soprattutto l'animo. Così, se volete conoscere la storia di una famiglia, ma anche di un'intera cultura, Vemba vi scalderà sicuramente in queste fredde giornate di dicembre. Spesso ci si lamenta che con l'avanzare della tecnologia il modo di giocare rimanga in realtà sempre lo stesso. Bene, ecco quindi un titolo giocabile solo su Nintendo Switch, proprio per via della possibilità di staccare i controller, ovvero Give Me Toilet Paper. Per giocare è infatti necessario usare un rotolo di carta igienica in cui infilare uno dei Joy-Con, così da salvare un uomo che si è seduto sul trono ed è rimasto senza carta. Si tratta di un'esperienza breve, certo, ma è anche una delle idee più originali in commercio. Quindi non fatevela sfuggire. In Videoverse interpretiamo Emmett e possediamo una console shark con cui accedere a un social network ispirato a quelli reali di inizio anni 2000. La storia si concentra però sulla chiusura del servizio ormai prossima. Un evento questo che spezzerà inevitabilmente i legami creatisi tra gli utenti e che diventerà uno strumento per raccontare privilegi, disabilità, adolescenza e dipendenze affettive senza però mai risultare didascalico. Se volete quindi intraprendere un viaggio nostalgico, commovente e rigiocabile, beh, questo è il titolo che fa per voi. Chance of Senna ha reambientato nella torre. Una sorta di babelle nella quale ogni popolo parla una lingua diversa e che proprio per questo è incapace di comprendere le altre civiltà. E in questo colorato puzzle game noi vestiremo i panni di un semplice viaggiatore che esplora la torre e che possiede la migliore delle capacità, ovvero l'ingegno. Il gioco fornisce infatti molti indizi visivi per le diverse azioni eseguibili e noi dovremo comprenderne il significato per poter completare i vari compiti e proseguire. Quello di Rundisk è quindi un titolo dal comparto artistico eccellente e che offre anche un approccio originale, nonché un'autentica ventata d'aria fresca nel panorama videoludico. Cosa succede quando Nintendo non si decide a realizzare un nuovo Wario Land? Beh, succede che qualcuno crea il proprio Wario Land. E stiamo parlando ovviamente di Pizza Tower, un platformer 2D che guarda al passato per divertire i giocatori di oggi. Nel gioco controlliamo Peppino Spaghetti, un italiano super stereotipato ossessionato da pizza e polpette, nell'ambito di un titolo impegnativo vecchio stile, ma comunque modernizzato e capace di mettere in mostra tante idee uniche e divertenti. Certo, non è il prodotto per chi ha le prime armi con il genere, ma se volete comprendere cosa fosse Wario Land senza dover riprendere in mano vecchi titoli, beh, allora Pizza Tower è senza dubbio da provare. Bene, e queste erano le nostre perle nascoste del 2023. Ovviamente la lista potrebbe includere anche altri nomi, ed è per questo che ora tocca a voi. Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non lasciarvi sfuggire nessuno di quei titoli che passano un po' in sordina, ma che meritano comunque di essere giocati. Nel frattempo qui accanto trovate come sempre dei video che potrebbero interessarvi. Alla prossima!